allora brevemente tre punti importanti uno sulla partita di ieri come abbiamo detto contano i tre punti perché partite come quella nelle scorse stagioni probabilmente non le vincevi ma anzi le perdevi io ricordo io ricordo tanti in Gena Roma uno in particolare 3-0 al primo tempo 4-3 nella ripresa per cui amici miei adesso non stanno a fare troppo i sofisticati in questo momento è un momento un po' difficoltoso dove non c'è gente al meglio dove qualcuno era anche fuori anche se poi voglio dire secondo me ieri Santon e Spinazzola non hanno fatto rimpiangere i Florenzi e i Kotarov soprattutto di questo momento Spinazzola contento abbiamo verificato e qui arrivo al secondo punto abbiamo verificato che sicuramente non era un problema fisico adesso ne siamo certi sicuramente non era un problema fisico altrimenti non avrebbe giocato da titolare e con questa qualità per cui è evidente che Marotta adesso lo posso dire perché ci stanno i fatti ovviamente che certificano questo voleva soltanto rompere un po' il cazzo che ci sta per carità però giustamente non è seria non è seria come situazione dopo che si era preso comunque un accordo detto questo arriviamo anche al terzo punto che forse è anche quello più importante pare che Politano sia a Roma sia a Roma perché comunque comunque il fatto che la trattativa sia saltata non ha comunque ostacolato evidentemente la risoluzione positiva dell'affare Politano a Roma che comunque come dicevo io poteva essere non capito perché anche acquistato a prescindere da Spinazzola certo poi se uno si mette a fare muro contro muro e dice con l'Inter io non ci voglio più fare affari è un conto e ci può anche stare però se abbiamo capito che il giocatore in questo momento serve perché comunque conferisce più velocità nel ruolo più scusate ne stavo a strozzà più dinamicità anche se poi ieri Under ha fatto una buona gara ma eventualmente comunque non essendoci più zagnolo servono anche delle alternative valide e sicuramente Politano lo è niente questi sono i tre punti che volevo affrontare un po' con voi nell'agurarvi una buona giornata io ho una bronchite che adesso vediamo se riesco a curarmi col cammino perché è tipo un mese e mezzo che me la porto e chi mi segue lo sa insomma ogni tanto do un colpo di tosse non ce la sto veramente a far più vorrei evitare prendere gli antibiotici oh ma c'è sta parola di calcidone vabbè così per dire insomma che alla fine questo sia un canale di calcio ma è anche il canale mio se c'ho un problema è anche giusto parlarvene anzi volevo ringraziarvi di tutti delle condoglianze che sono arrivate insomma tramite messaggio sotto da tutti quanti gli iscritti a testimonianza insomma che questo si è un canale che parla di calcio dove magari a volte si i toni diventano anche un po' esasperati ci si può anche insultare tra virgolette però alla fine insomma siamo sempre esseri umani e davanti a qualche sofferenza ho apprezzato insomma la vicinanza e niente parliamo un attimino di questi tre punti allora ripeto primo punto la partita di ieri mi ha fatto venire il patema d'animo in certi in certi momenti Paolo Lopez è stato determinante in più di qualche occasione non si dovrebbe soffrire così col Genova però tre punti fondamentali secondo punto Spinazzola sta bene noi gli auguriamo che sta bene fino alla fine del campionato ovviamente perché io non ho mai discusso le qualità tecniche di Spinazzola non devo ripetere i video che ho fatto io discuto il fatto che lui adesso fa una partita poi magari alla prossima fa un'altra partita esce che si tocca e noi lo rivediamo per un mese questo è quello che discute Spinazzola non la qualità tecnica terzo punto Poitani a Roma potrebbe firmare lo speriamo tutti e secondo me è un ottimo acquisto buona giornata a tutti